spiegazioni poi sono arrivato con eccoci qua buongiorno buon lunedì lunedì 27 di luglio l'ultimo lunedì del mese ormai ci avviciniamo a passi rapidissimi alla fine dell'anno quindi preparatemi già per le festività se volete fare una festa c'è sempre the double ricordatelo bene between the sheets eccoci qua cominciamo subito subito questa settimana viene prevista dai meteorologi come la più grande anno fa già caldo stamattina sono 22 gradi e il cielo sembra sereno dovrebbe poi migliorare cioè restare bello migliorare meglio di così restare bello tutto il giorno quindi una temperatura direi calda si calda poi c'è poca afra ho visto leggevo dei dati da afra in generale che il cambiamento climatico ha rivolto anche l'afra in generale non solo temperatura buongiorno 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 anche a fabio perugini eccolo eccolo c'è bellissimo eccolo bellissimo buongiorno visto che l'abbiamo al mattino lo dobbiamo riprendere subito ecco eh sì perché ci siamo abituati a averlo un attimo è che lo mettiamo mercolino così a mercolino mi sono svegliato sì 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 vabbè vabbè abbiamo avuto una botta tutto risvegliato sì sì eh vabbè adesso vabbè mi fate stancare buongiorno Andrea Scotto buongiorno Roberta siamo tutti congiunti Corriere della Sera prima pagina è andata eh adesso vediamo la stampa tra l'altro leggevo del Toro che ci dovrebbe arrivare una proposta da 100 milioni a metà settimana da un gruppo di imprenditori speriamo ma lui non mola mi piace andare lì a farsi vedere poca spesa e tanta resa per i suoi giornali va bene ehm grandi notizie non ce ne sono a parte la ci sono lanciati tutti i giornali ovviamente perché è leghista sul presidente della regione Lombardia non stiamo riassumendo tutte le storie tanto vengono sempre ragionate e ricordate dai vari giornali telegiornali e tutto ehm alcuni giornalisti stanno cominciando a vedere una trama per cercare di andare alle elezioni Lombardia prima possibile per cercare di toglierla al centro-destra vabbè c'è la guerra come la guerra sapete ormai è un continuo un continuo si sta discutendo in questi giorni del protone di esecuzione contro Berlusconi può darsi che stiamo parlando anche per Fontana e generalmente quelli di centro-destra mai quelli di sinistra non so perché ma anche perché c'è io avevo letto che Zingaretti aveva buttato via 15 o 20 milioni in mascherine in Lazio ma no ma qui sono congiunti congiunti con i giudici? no chiedo per un amico chiedo per un amico comunque la grosse notizia sembra quella è quella dei carabinieri di Piacenza ma anche lì finché non l'ho approfondito ci sono tanti che ci dice parlando dei soldi che arriveranno fra molto tempo sono tutti in fibrillazione già adesso dai sindacati ai vari stakeholder che cercano di portare a casa più soldi possibile si parla di una commissione bicamerale a guida di Grunetta in teoria sarebbe non tanto per la persona ma perché rappresenta il centro-destra quindi una figura di garanzia nell'investimento corretto dei fondi comunque quello che dovrebbe essere fa veramente ridere il fatto che si comincia a già scannarsi adesso per dei soldi che arriveranno se va bene in scarsa quantità dalla metà del 2021 in poi dobbiamo già essere pronti a spendere a spendere già prima salutiamo anche Giorgio Rosetti e Marcello Canestre buongiorno buongiorno lunedì mattina si vede chi è e chi invece un po' più molle Giorgio Rapetto no beh non sto parlando di Giorgio Rapetto esatto stavo parlando di qualche Dunato che arriva qui tutto bello abbronzato eh sì? sì quali che avevano i bracconi? no 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 non faccia il fumo lei ci deve spiegare dove ha preso questo sole che posso testimoniare non è terra sono i conduttori televisivi come diceva la sbganza non sono fattiva siamo belli come sole quindi il stato di emergenza è bilancio adesso si deve decidere entro fine del mese se prorogare questo stato di emergenza non ce ne è ormai è palese che non ce ne sia non ce ne sono condizioni però aiuterebbe molto Giuseppi a essere ancora il leader dello Stato comprimere le nostre libertà costituzionali il più possibile però non è ancora deciso in più il bilancio il bilancio dello Stato si chiederà in settimana un nuovo sforamento si parla di 25 miliardi del del bilancio una nuova manovrina la manovrina di agosto 25 miliardi tutto debito ovviamente perché tanto non entra niente sembra che nella manovrina rientri anche lo spostamento delle tasse di settembre perché sapete a settembre si vota quindi bisogna spostare le tasse e portarle probabilmente a novembre è un po' di è una pentola che bolle secondo me il Parlamento adesso tra proposte inutili proposte sì insomma abbastanza partigiane una roba che non è abbastanza comprensibile leggevo su è interessante questa pagina queste due pagine che stai leggendo della stampa riguardo la cassa depositi e prestiti che ormai è diventata una nuova iri c'è un'anima sulla stampa che parla della cassa depositi e prestiti c'è una quantità no no non è questa pagina quella che sia comunque che verifica l'importo dei soldi che sono già stati spesi il valore che ha in portafoglio la cassa depositi e prestiti la identifica come liri addirittura ha più soldi più patrimonio del liri quindi lo Stato sta mettendo molto più di quello che era allora e la paura è di trovare un secondo prodi che vada a liquidare le aziende come aveva fatto allora il problema è che questa nuova crescita degli investimenti non corrisponde alla crescita degli utili gli utili stanno diminuendo del 6% rispetto all'altro anno siamo a 4,7 miliardi dei dividendi perché la crisi colpisce nonostante questo lo Stato continua a mettere dei soldi sulle aziende private mi sembra una cosa abbastanza incomprensibile almeno da liberista io sono contrario a tutti gli investimenti di questo tipo allora senza un'analisi preventiva della dell'andamento dell'azienda negli anni delle cose cioè non che dici vabbè sto aiutando Fabio Perugini che col suo bar è stato chiuso ma sta crescendo ma sta crescendo ha fatto delle cose no così a guzzo a guzzo sì il problema per esempio lo analizzate nella questione cornelliani un'azienda che su 70 miliardi ne perde 70 milioni di fatturato ne perde 30 dobbiamo intervenire noi a comprarla forse c'è qualcosa che non va esatto ci converebbe di più ci costa molto meno tenere i dipendenti in cassa integrazione o comunque darlo un reddito di cittadinanza 30 milioni l'anno non ci costerebbero ci sono 33 milioni l'anno nel mese quelli spesi in tutto il Piemonte per il reddito di cittadinanza non so quanto saranno saranno 100 dipendenti mantenetili a casa ecco adesso non so se tu hai visto ma guardando i telegiornali e vedendo un ampio giro a spettro sui centri storici delle grandi città sulle spiagge più famose rinomate eccetera si vede quanto era ed è importante per un paese come il nostro il turismo il turismo straniero cioè vedevi questi paesini con qualche eccezione una rarissima dove dove si vedeva che mancava proprio la gente le persone quindi quello che noi abbiamo sempre detto attenzione non morire di post covid non di covid perché adesso e qui sembrerò cinico 35.000 morti sono un numero incredibile e nessuno di noi vuole dimenticarlo ma 100.000 o anche di più italiani con che erano benestanti che erano gente che stava bene saranno anche un po' di milioni ma dei numeri che stanno trapellando tutta Italia ecco ma i primi numeri stanno parlando di questi di chi è passato da star bene alla povertà ora io credo che bisognerà anche in un qualche modo pensare come far ripartire in modo vero questo paese cioè quello che mi sembra i nostri politici continuano a dimenticarsi è come avete intenzione di farlo ripartire che manovre volete adottare che sistemi volete prendere che detrazioni volete dare alle aziende e avanti di questo passo se invece qui continuate a chiedergli i soldi delle tasse le cose capisco non ci sono soldi in cassa uno deve far cassa il maggiore per i sindacati è quello di far entrare lo Stato nelle aziende private la richiesta di Vandini più di tutto buongiorno Sergio e Anna io ero alla Sant'Anna le facciamo gli auguri auguri Anna non lo sapevo io i Santi non li seguo non so perché non sembra ricardo mi sa sì ma anch'io non sono comunque sì penso mi avevano anticipato questa settimana forse le vedremo anche alla Periswing quindi voglio farle anche poi prossimamente poi voglio salutare Lori Maio e Marietto oh finalmente vedo anch'io Barbara Rizzi buongiorno buongiorno Barbara Rizzi è ricomparsa ma Barbara Rizzi è su tutti i giornali tutti si 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 è diventato un personaggio grazie a noi no vuoi dire ma no lo dica ma no ma lo dica grazie a noi brava lei ma no ma grazie a noi perché oggi mi ha preso un po' di aiuto no parlavo l'altro giorno con gli amici di Rapporto che è l'app che vi invito a scaricare per la coltivazione e l'acquisizione dei prodotti coltivati in remoto e stanno avendo un grandissimo successo cosa è successo ho cambiato la telecamera la rimettiamo e stanno avendo un grandissimo successo si perché sono venuti da noi l'hanno presentata da noi ovviamente questo è riguardo così e con quanto riguarda Barbara Rizzi beh dobbiamo dire che ci dà anche tanto da fare non è non è ferma e sono fortunati ignorifici di aver trovato una persona come lei che faccia i loro interessi quello sì no per continuare il discorso del del turismo devo dirti che comunque ho visto anche in una località che ho visto questa settimana piuttosto famosa per il turismo addirittura il casino chiuso sì per la scarsità probabilmente delle persone e nessuno o così qualcuno al bar al ristorante ma era una sera di estate di la Sardegna è quella di 30 anni fa la Sardegna è quella di 30 anni fa per chi ci va pare che sia un paradiso immagino immagino ricordando quello che era 30 anni fa la Sardegna immagino ma tanto contenti no certo tutto il mondo quello che hanno fatto degli investimenti nel periodo non lo sono è un problema di tutto il mondo tra l'altro notizia di sabato che l'Inghilterra imporrà la quarantena a tutti coloro che saranno stati in Spagna anche per il turismo eh sì l'hanno già chiusa l'hanno grida da parte della Spagna effettivamente questo sarà un vantaggio che che avrà poi la Francia o altre nazioni dove non si imporrà questa questa situazione ma l'Inghilterra è sovrana può fare come vuole cioè è un problema un po' particolare sta crescendo tantissimo il problema dei contagi in Algeria quindi noi importiamo della gente di lì la Tunisia non è ancora tante ma è una grave crisi economica quindi la Morgese andrà oggi a parlare con il Primo Ministro e daremo dei soldi anche a loro per tenersi i clandestini poi ce li manderanno lo stesso diciamo che la situazione mondiale è veramente quella che si aspettava non tanto piacevole è abbastanza complicata qua mi sono comparsa di nuovo le persone sinceramente grazie baba si no no quello che invece non rallenta è il flusso di migranti proprio dall'Africa no? no arrivano poi da paesi che ci direbbe non sono proprio direi proprio di no Tunisia dicono che sia in crisi economica ma potremmo arrivare con l'aeroplano l'Algeria ha anche un problema di contagio la Libia qualche problema c'è ma non di guerra civile ma più che altro di bande che comunque noi continuiamo a caricare i bengalesi che arrivano e i pakistani che arrivano con questi barconi sono quelli che non possono arrivare anche l'aeroplano ma io penso piuttosto a quelli che sono sfaccendati che vengono qualcosa di diverso però sembra che ho visto ancora una discussione su internet a fine settimana tante anime belle sono come sempre aggressive fortissimamente aggressive nei confronti di chi prova ad alzare l'editino e dire ma possiamo permetterci questa gente non si è mai detto è un disastro dovete che vi dica ci sono degli interessi molto superiori a quelli che noi possiamo prevedere la sinistra sta normalmente cavalcando la cosa anzi abbiamo visto degli immigrati nelle isole mi sembra intorno a Caprio giù di lì 5, 6 o 7 immigrati una con un bichini rosso e un altro che veniva da rifondazione comunista cioè boschi amici ma lei sta parlando della rimpatriata di Italia Viva si hanno fatto la barca allora lei non è corretto perché? perché hanno fatto la riunione di Italia Viva sulla barca no è proprio il congresso ah si come in umore era il congresso il pre-congresso scusi il pre-congresso perché mancava Renzi no? quindi c'era il pre-congresso e e quindi eravamo pronti erano tutti i votanti dei partitori allora vuoi fare due allora bisognava capire chi come dove perché cosa perché quando quando non è una roba semplice e lei si perde nelle quisquiglie poi trovato l'accordo erano anche tutti contenti dice allora facciamo la foto assieme hanno lanciato subito la foto perché? perché erano senza mascherina ah ecco mentre dovevano parlare di cose importanti per il nostro futuro no mi fa piacere vedere il Gennaro Migliore che ha girato un po' tutti i partiti della sinistra ma Gennaro Migliore si vanta di essere praticamente un comunista all'Arizzo ma quanti anni ha? 45 anni ah beh però no è girati tutti va in televisione a pontificare contro i cattivi imprenditori è un fiulotto com'è? è un ragazzino sì però intanto in barca ci va ecco forse è andato a prevorare la causa del partito dei lavoratori è certo ma lei perde tempo chiedevo se la teoria è quella comunque questa è la classe politica che ci ritroviamo domanda sul Corriere della Sera perché è giusto riaprire le scuole più presto eh sì questa è un'altra bella domanda questa è una bella domanda quali banchi se i banchi cinesi o i banchi sì ecco prima settimana è venuta fuori l'intelligenza di Acuri e della Azulina nello scegliere i prodotti i banchi che sono stati selezionati avete visto quei banchi colorati con le rotelle che ha pubblicizzato anche televisione la Azulina e di cui Acuri si lancerà a acquistare ben sembra che si investano ben 900 milioni di euro per questi banchi per 100 euro l'uno si è scoperto casualmente è che quei banchi che non sarebbero producibili nel tempo da adesso a settembre in tale quantità sono già casualmente disponibili su Alibaba a 74 dollari l'uno noi investiremo 300 euro l'uno perché siamo più furbi degli altri e Acuri deve dimostrare la sua efficienza comprando magari da Alibaba quindi compriamo i banchi facendo lavorare delle aziende cinesi stavano pagandoli no ma devono averli tutti esce il bando adesso e già gli industriali italiani hanno detto che il bando è stato fatto da incompetenti perché hanno proposto delle cose che non sono fattibili quindi è che veramente il vostro domanda è una roba sai chi risolverà il problema coce arredamenti dici? ah beh potrebbe produrli lui eh? li produce lui gli importano i banchi quelli vecchi doppi eccetera e col famoso segone lo stanno in piedi? eh sì la stampella ah infatti la famosa stampella di Renzi ecco sì col segone col segone e voi andate da coscia comunque si dovete andare alla vostra casa andate lì se avete bisogno del banco per il vostro bambino se avete bisogno di cose fatte su misura anche il banco per il vostro bambino con segone ecco con segone potete portare il banco vecchio bi posto oppure chiedere proprio un banco nuovo ne ha già pronti alcuni c'è quello anche con la presa usb per il cellulare per tutto no? anche per perché povero bambino vuoi mica che non abbia il cellulare sotto carica se io lo cerco anche quella struttura per tenere sul tablet eh sì è certo tablet sì vabbè tablettone tablettone sì poi devo dire l'altra cosa che per esempio ha il porta drink ah che è la bottiglietta eh sì se uno avesse sede di plastica eccetera ma ma anche possiamo dire anche raffreddare no? c'è tutto collegato ma certo ma tutto tutto è un anche il pannello solare il banco le bottigliette si possono trovare dalla coltelleria Boido in via San Lorenzo quelle durano la temperatura dura quasi 12 ore quindi non è un problema 12 ore anche di più il caldo il freddo anche un giorno intero però se servisse anche a raffreddarle nel banco eh www.coltelleriaboido.it per trovare anche le bottigliette termiche o tutti gli ossi ci sono da cucina mamma mia stamattina anche Alessandro Trussi ciao mamma mia mamma mia ma domani sera me l'avevo letto mi era scomparsa Sergio Giordano lo vedremo domani sera la Periswing eh vabbè siamo sempre di moda noi abbiamo fatto sold out giovedì ci stiamo prestando a fare altrettanto ricordiamo la Periswing cominciate a organizzarvi domani sera giovedì sera al Garden dei Due Buoi tanta buona musica ottimi cocktail è un menù veramente smart per chi volesse anche cenare o restare a soltare la musica anche solo un dolce si può venire a prendere è cambiato nuovamente cambia ogni settimana quindi chi è già venuto e molti sono già venuti stanno tornando a Vanno molti molti ah ho capito dai mogli molti ah molti molti no 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 certo certo abbiamo un bel un bel return si si abbiamo tanta gente che torna mi raccomando se avete bisogno di qualcos'altro c'è sempre l'opportunità di andare ad Arco Sport qualcos'altro di che tipo no non il banco ma le scarpe la ginnastica la scuola quella che si diceva una volta le scarpe da ginnastica i calzoncini per fare sport le montagne da corsa la famosa le montagne da corsa no ma adesso lei parla di quelli super tecnici no no io sto parlando di quelli di quelli per poter fare ginnastica o stare all'aperto che anche le classi ma anche con un po' di eleganza perché le classi ricordiamo Arco Sport sono i migliori negozi perché sono due di articoli sportivi in Alessandria sono entrambi in Piazza Genova al corso la marmora uno dedicato all'attrezzo tecnico quindi alla scappa sportiva la racchetta o addirittura al corner di Patagonia per poter andare anche dove fa freddo e uno proprio moda 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 dove c'è la nostra Silvia che propone tanti prodotti di un giorno buongiorno anche a Rosalba Cugnolo buongiorno Hawaianas tante cose che sono da seguire e sono quelle cose che ti mettono di buon umore assolutamente vai in classe con le tue Hawaianas bello magari stavo pensando che al banco quello tagliato da il ciocrocio è più facile portarlo con un van della Resica o un pick up magari Nissan o Hyundai o Volvo potete trovare in queste tre marchi gli spazi che volete anche le motorizzazioni che volete e comunque da Resica il servizio che è il top di Nissan anche loro sono spieta Marengo sempre servizio top parliamo invece della macelleria oggi vacanza fino all'11 di agosto quindi preparatevi perché agosto vi seguiranno sempre loro la bottega Cane Piemontese in Piazza Marconi è e resta un punto di riferimento dei gourmet Alessandrini tutti coloro che vogliono chi vuole mangiare bene invece quindi buone vacanze a Luciano e a Federica e a Federica invece chi vuole mangiare bene tutti i giorni può andare ai due buoi al mezzogiorno un buon rapido anche per chi lavora perché comunque vuole restare leggero e la sera mi hanno un gourmet con i piatti veramente fantastici di Marco Molaro che è il nuovo chef a tutti gli effetti è entrato veramente nel mood dei due buoi è un ragazzo che piace un ragazzo che piace sì anche come piacciono i due ragazzi di The Double quando c'è un evento dovete chiamarli ve lo organizzano vi forniscono e gli articoli oppure i G-Set hanno anche servizio di organizzazione dell'evento quindi autorizzazioni tecniche si ha e tutto ed è il partner migliore per i vostri eventi importanti Giorgio è parte migliore per una delle cose più importanti della vita cioè trovare la propria abitazione e l'abitazione o località capannone di lavoro ufficio lo trovate in via Trotti angolo via Piacenza telefono 347 45 15 17 6 locali sanificati per cui conviene anche prenotare magari la visita per non dover aspettare fuori quando fa caldo altrimenti poi rischi di fare uno di ieri e uno di oggi quello che ti capita con Radio Alex mi è capitata la battuta comunque va bene la sanificazione che tu stai lì fuori diventi uno di ieri col sole muori invece se tu sei bello fresco preciso conviene fare così anche al CAF della CIA cioè prenotare prima perché hanno tantissima gente stanno lavorando tantissimo ci sono i 730 ci sono dichiarazioni ci sono i bonus gli ISE quindi conviene telefonare rivolgersi oppure con g.picarolo chiocciolacia.it se volete prenotare prenotare per l'incontro comunque rivolgeri sempre a loro sono in via Savonarola e in piazza Ceriana ad Alessandere cioè per ogni vostra esigenza dichiarazione e ancora volevo ricordare la cantina di Fontanile per i vostri vini freschi mamma mia quelli rossi caldi magari non è il momento ma un bel vino fresco un rosato o uno chardonnay temperatura da pozzo un cortese temperatura da pozzo direi che si beve veramente bene sia negli aperitivi che nei vostri pasti e ancora siamo in anticipo ma io lo lanciamo lo lanciamo alla grande anche perché chissà chi ce lo porta ma caffè del fanciotto l'unico caffè che ci fa tornare bambini tac portato da da non lo so stava facendo il panegname Fabio Perugine per far la rima ricordiamoci che noi siamo al Mecchioni Cafe in via Kenna ad Alessandria e il caffè del fanciotto lo potete assaggiare per ora solo qui potete anche portarlo a casa ve lo possono dare macinato ed è un'esperienza anche a casa di grandissimo rispetto Riccardo puoi certificarlo assaggiato le capsule nuove non riesco più non posso più prenderle oh dammi un attimo no cosa è successo c'è lui c'è una foto ah ciccio ma guarda ciccio che bella per te c'è già detto che c'è stato il primo contagiato eh già il ciclo del nord è stato il primo contagiato e probabilmente il suo parrucchiere perché guardate che pettinatura si è trovato no no bello no veramente bello un bel ragazzo allora un disertore un disertore dal sud ha portato il male al nord perché loro erano sani e pui e invece il sud sono brutti cattivi e guardate che bella pettinatura no veramente no ma pensa che questo qui che è il primo contagiato sai da dove arriva lui dice dal sud dal sud è certo è certo è certo no no sono puri allora come facciano a contagiarsi non vedono nessuno come fanno a contagiarsi hanno fatto mangiare anche lui dei cani chi e quel contagiato no sì ma no lo stanno studiando ah lo stanno studiando l'hanno lì sezionato lo stanno studiando vabbè i contagi in Italia sono 255 in un giorno 5 morti per fortuna sono pochi sempre uno è troppo e tre giorni in Nombardia senza morte sì è un buon segnale certo è sempre stata si verrebbe un cambio finalmente parlando di immigrazione e di belle persone la Francia è la paese con l'immigrato che ha dato fuoco alla cattedrale di Nantes perché non avevano rinnovato il visto e doveva fare del male a qualcuno ed è sono tutti quelle brave persone che vabbè insomma un visto non si nega a nessuno dovrebbero imparare dall'Italia dall'Italia noi siamo previdenti per cui noi siamo delle brave persone sono cattivi loro perché come si fa a dire no a un clandestino una persona vedi che quando parli con questi da sinistra hanno tutti i diritti del mondo buongiorno a tutti i dati che sembrerebbe allegro stamattina sì infatti anche Patrizia Garrone è già arrivata così presto così presto mamma mia in un periodo di vacanza ma io hai fatto annuttata sì sì ha fatto annuttata vedi il mattino ma chissà avrà dovuto fare un weekend eh sì infatti non ha mica possibilità di vivendo in quelle quattro stanze sì sì senza vista mare senza niente temperature orribili ma buongiorno buongiorno Greta noi avevamo paura che ce lo portasse Fabio Ferrucgini infatti noi preferiamo sempre una bella ragazza quindi come funziona grazie a voi ragazzi hai un'idea aspetta non scappare hai un'idea per il pranzo di mezzogiorno come 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 verrebbe cosa che dovrebbe chiedere la mascherina per rimanere un po' leggeri perché è stato fa caldo petali di buffalo marinati con una salsina alla rucola l'acciata al parmigiano e comodorini con oh mia buona grazie allora fate prima dire voglio il piatto di Greta perché grazie al piatto di Greta io mangio bene oggi mangio bene fresco leggero grazie perfetto il caffè del fanciotto è arrivato eccolo qua il caffè del fanciotto l'unico che ti fa restare bello come sei ma sai che a volte mi domando senza il caffè del fanciotto si ma hai visto durante il lockdown sembravi sembravi spento non eri non eri così brillante ecco invece così sei una meraviglia vabbè lasciamo stare questa cosa di questo carabinire mi sembra strano onestamente faccio solo un'orientazione a margine quel carabinire di Piacenza che nessuno avesse notato che questo carabinire viaggiava in BMW Mercedes Smart moto incredibili feste spese incredibili con lo stipendio da carabinire che purtroppo è uno scandalo il fatto che gli stipendi da carabinire siano così bassi con quello che rischiano i suoi superiori non lo controllassero ma mi sembra una roba veramente vabbè siamo in Italia ragazzi poi se lo scoprono dopo si scandalizzano ma così ecco sei già arrivato la pagina no 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 voglio parlare di Olivia de Havilland ah già sì la dolce melagna l'ultima interprete di via col vento ancora che era ancora viva è la più anziana dell'attrice di Hollywood di 104 anni si è spenta ieri aveva vinto due Oscar ricordiamo che aveva fatto solo via col vento ma aveva fatto no no ma era una grande attrice aveva partecipato ha tantissimi film e quindi devo dire tanta roba tanta roba ci dispiace per lei fatti fatti donna molto arguta molto attenta dicono che aveva vissuto sostanzialmente sana bene quindi non con grossi problemi di salute direi che vorrei essere io arrivare ai 104 anni con una salute del genere quando c'è allora il campionato non vinto da Inter, Lazio e Atalanta si perso da loro non vinto da Inter, Lazio e Atalanta perché sono stati loro a regalare il campionato alla squadra di Venaria a cui noi facciamo gli auguri no non c'è per che niente non c'è per che niente no come hai detto ah si eh? si come volevo dire per la squadra di Venaria ah si si che ha vinto il campionato si bello no ecco no no Fabio questo è anche per te si che adesso mi manderei sicuramente dei messaggi trionfali mi manderei buongiorno Isabella Cavalero buongiorno buongiorno ah se posso se posso passo mi connetto eh allora devo dirti che sabato visto che Isa si è collegata con noi c'è stato un bellissimo ricordo a Cassine a Cassine a Luciano Luciano Olivieri che il nostro sommo poeta purtroppo ci ha lasciato il nostro sommo poeta poeta e devo dire che all'interno della chiesa di San Francesco bellissima tra l'altro con e grazie al presidente della provincia ma sindaco di Cassine Baldi eh che ha dato lo spazio a disposizione e eh ha un numero infinito di amici che con forme dialettali anche diverse no i singoli dialetti della singola località della provincia e leggendo a modo loro le poesie anche una poesia di Luciano in molti casi leggendo una loro e una di Luciano eh insomma hanno hanno dato un ricordo bellissimo se mai ce ne fosse bisogno per chi non l'ha conosciuto purtroppo non ricordo solo così per chi l'ha conosciuto ricordo è bellissimo sicuramente è stata una persona veramente speciale devo dire ed erano in tanti ti devo dire proprio tanti che hanno voluto ricordare ricordare Luciano ottima cosa ottima cosa quindi Isa era presente ovviamente e si è gongolata un po' si se l'è goduta se l'è goduta un po' noi non ci dimentichiamo mai del nostro sommo poeta per cui se puoi collegati ci fa piacere e se passi di qui ovviamente il posto è libero allora noi stiamo parlando del campione di calcio di cui non ci ne frega niente la cosa del toro può interessare a te c'è un'offerta da 100 milioni che dovrebbe arrivare al toro a metà a metà settimana un club di un gruppo di investitori si ci dice ma come mai ho fatto sta roba un inserto un inserto allora Giovanone buongiorno oh buongiorno si lo so è tale ah va bene allora se te la canti te la suoni hai fatto anche tu la fine settimana di Baldoi bravo ecco poi c'è anche Morena Muda buongiorno buongiorno benvenuta bene guarda Giovanone come ti dice Morena Muda mi sa di un cognome sardo chissà di quale bella zona di te non vorrei che poi si forse in un bel posto di villeggiatura se vuoi dirci se sei con una qua la 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 qua cognome Morena Muda allora pronti 100 milioni per il toro forse vero Marco Lugino offerta a Cairo la cordata esce allo scoperto la cifra sarebbe garantita da un fondo di investimento sumo apposta a Cairo gli farebbe bene eccetera adesso altra notizia di spot adesso direi dato che faccio ci interessa abbastanza poco no il toro si è salvato con il minimo sforzo pareggiando con la spalla alla quale ultima in classifica noi del toro che siamo gente generosa abbiamo regalato 4 punti tra l'andata è un ritorno c'è un gemellaggio è certo no interessante Valentino sì ecco allora a Rosio vuole dire un monumento bisogna fare un monumento a 20 anni dalle prime gare anche le prime vittorie perché dalle prime vittorie risale sul podio dopo 17 17 gran premi un anno e mezzo circa che non salire sul podio e si toglie un bel sassolino perché dice agli amici della Yamaha dico che dovrebbero sentirmi di più e ascoltare quello che gli dico quando lo fanno poi i risultati arrivano ora io credo che Valentino a 41 anni non possa correre come i ventenni Quartararo e Gignales ma abbia ormai un suo modo di correre ieri ha dimostrato che comunque come riesce a pintare lui all'ultimo non ci riesce nessuno ecco adesso Gignales ha dovuto lottare non poco per tentare di superarlo ci è riuscito proprio alla fine quando le gomme ormai erano brasate tra l'altro hanno trovato quelli della della Yamaha una soluzione interessante le gomme fatte girare due o tre giri non a forte velocità non esasperate e poi rimesse per la gara si surriscaldano meno che la gomma nuova strano è interessante questo è uno studio che avevano visto anche con la Michelin eh beh Michelin si si aiuta Valentino va bene e beh Marquez non c'era fatta a correre ma perché per due ore era troppo forte vabbè ma secondo me era una via di mezzo tra spaventare gli avversari eh si tra tranquillizzare gli sponsor si e poi comunque per fino a sabato si è parlato solo di lui ha fatto per gli sponsor per gli sponsor tanta roba e Valentino ha fatto bene ha fatto bene a non cadere di di dire ma niente non dire nulla niente se non è più cosa di sport da dire volevo dare una notizia che è riportata sia sul poi lo abbiamo anche il Piemonte sia sulla stampa che sul Corriere della Sera lo smart walking che sta piacendo tanto a una fascia di lavoratori che comunque permette sia di seguire i ragazzi sia di lavorare dove si vuole sta facendo dei danni incredibili ai centri della città sono partiti i saldi sabato scorso poca gente ad acquistare in settimana poca gente nei ristoranti c'è un calo nelle vendite dei negozi da dopo il smart walking del 27-28% rispetto non darei la colpa allo smart walking dicono i negozi di centro che siano sotto il 45% siano per quello sia i ristoranti che i ristoranti ma il resto è un'analisi del Corriere della Sera di Ernest Young che ha fatto questa no no ma sui ristoranti e sui bar soprattutto nelle grandi città dove il centro è veramente popolato allora perché i negozi di abbigliamento sono sotto del 45% e le vendite di abbigliamento internet sono sopra del 135% perché la gente ha cambiato il modo ha scoperto un mondo ha scoperto la possibilità di trovare il prodotto a casa di non dover andare nei punti di vendita che invece andare a lavorare nel centro di Milano e poi magari fare gli acquisti lì quando è nel pauso pranzo lavora da casa e compra da internet il negozio del centro di Milano non lo vuole più cioè è una grande ha dato questa interpretazione molti dicono che da settembre molti riapriranno perché non vogliono che i dipendenti prendano questa abitudine dello smart work anche se anche se questo comporta a detta di tutti quelli che lo fanno più ore di lavoro tra l'altro perché le riunioni telefoniche o in videoconference eccetera hanno sballato perché i sindacati sono disperati bisogna fare un contratto bisogna dare le linee internet alle famiglie no 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 sono disperati sulle linee internet sono abbastanza d'accordo sulle linee internet sono abbastanza d'accordo perché se glielo fornivi un internet c'è un problema di sicurezza dei dati aziendali perché gli hacker se volessero entrare in una rete aziendale di uno che lavora da casa è facilissimo usando come te l'ha detto Pino? no lo dico anche sul giornale ma poi è normale sai che Pino fa quei lavori per noi che Pino? quello che fa quei lavori per noi nella sottoscala per sapere no? si le cose delle notizie quelle riservate hai mica 850 mila dollari ci sono un paio di scappi usate da acquistare si usate da Michael Jordan ci pesa Berugini per questo ok perché sono state usate da Michael Jordan in Italia ma fa lui l'offerta ok ok adesso per dire la smorbietà di certa gente mamma mia da Calabria attore in Costa Smeralda restano i fedelissimi come dicevo ricordo poca gente però quelli con i soldi che hanno le case scusate chi ha le case insomma Rossana Macchio buongiorno ah buongiorno buongiorno vedi vanno in vacanza poi si collegano tardi smart walking eh sì fanno lavoro tra l'altro parlando di di America sembra che eh Donaldo abbia dei grossi problemi e beh eh tra l'altro si vota 300 giorni in America quindi neanche tanto tempo e lui deve rincorrere quasi 10 punti percentuali rispetto a Joe Biden c'è è stato l'incremento ce l'hanno fatta finalmente a a a dargli dei colpi con Black Lives Matter quindi c'è una sorpresa con lui per un poliziotto che ha ucciso un arrestato e adesso col Covid che ha gestito molto male almeno in maniera comunicativa è attaccato è ancora considerato considerato come un un inadeguato al ruolo anche se ho detto dei dati statistici sì che dicono che l'Italia così brava così bella così buona si sia comportata molto peggio di quello che sta facendo l'America attuale come come morti come contagiati come come ricoverati in effetti noi siamo 59 milioni loro sono più di 300 milioni loro hanno avuto due o tre volte i nostri i nostri morti direi che per ora la statistica è dalla dalla loro parte parliamo sempre di numeri è facile parlare di numeri ti cito dei dati questo ecco ma devo dire poche notizie dal dal locale Giulia Nessio buongiorno buongiorno benvenuto bella la nostra signora delle delle paste delle torte speciali sì pasticcere che cosa fa Giulia bella anche da vedersi no ma se venisse una mattina qui a farci un dolce un dolce potrei portarci un dolce da assaggiare no anche poi da assaggiarci lo lascia qui ah beh tu ce lo farai tu ce lo fai ce lo porti fai l'ordine fai l'ordine stai facendo adesso in diretta tu ce lo fai ce lo porti noi lo presentiamo un giorno o due tipo cosa potrebbe essere ma lei fa anche delle torte tutte lavorate una cosa incredibile sì ma una roba leggera per la primavera basta che sia dolce noi la presentiamo un giorno o due poi se vedi piano piano che si riduce di peso di volume ecco se è scomposta è meglio perché continua a essere scomposta continuiamo a scomporlo credito di cittadinanza ogni mese in Piemonte una spesa di 33 milioni ecco aumentato il numero delle famiglie beneficiari raggiunta quota 61 mila il valore medio regionale di 539 euro con una crescita dell'8% allora io vorrei sapere ma tutte queste persone in un qualche modo le stiamo aiutando a ricollocarsi a trovare un lavoro che fine hanno fatto lì i navigator e sulla casa perché gli uffici del lavoro sono chiusi e non possono coordinare l'attività di navigator sulla casa prendono stipendio rigorosamente fanno spot working cioè non fanno niente working no ma è così questi sono i dati che sono emersi dall'osservatorio dei lavori pubblici questo è loro sono sono a casa sono un po' più di 6 mila fanno niente dovrebbero trovare lavoro agli altri ma dato che gli uffici di collocamento non stanno funzionando per via del covid non funzionano neanche loro bene che stanno abbiamo tolto 6 mila persone dalla povertà come direbbe Gigino tra l'altro Gigino ha fatto un'affermazione un po' forte cosa ha combinato? ha detto che è stata tolta quando si è deciso di espropriare il Benetton è stata tolta la gestione di autostrade dalla logica di mercato perché lui è un noto comunista purtroppo alcuni fondi stanno intervenendo pesantemente anche in sede europea per contestare l'esproprio che è stato fatto perché il valore delle loro quote secondo il piano che ha diffuso la cassa dei progetti di prestiti sabato verrebbe distrutto praticamente si pensa a un aumento di capitale a un prezzo ribassato per fare entrare la cassa dei progetti di prestiti e ridurre il valore della partecipazione dei Benetton ma questa riduzione di valore comporterebbe che la borsa si adegui alla valutazione fatta per cui vorrebbe perdere tanti milioni qualche miliardo agli investitori che sono adesso c'è un fondo TCI che è il più attivo ma anche Allianz e altri grossi investitori si troverebbero con dei pacchetti di carta a starci in mano per cui la seconda soluzione che sarà quella poi probabilmente se interviene l'Europa che bisognerà praticare è collegare l'operazione autostrade al mercato quindi il gigino ho parlato ancora una volta senza sapere di cosa si parla sì no ma no no per dire adesso l'ho spiegata rapidamente un pochino più complicata ma salutiamo anche Paola Gonzio la rapidità della spiegazione è quella ecco vorrei vorrei dirti un'altra roba che tu hai già accennato prima ma così velocemente è previsto la settimana buongiorno 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 è prevista la settimana più calda dell'estate no cioè questa è un'altra novità perché a luglio normalmente c'è sempre la settimana più calda dell'estate ovviamente la settimana prima sì però c'è c'è la seconda cosa è che non bisogna uscire nelle ore più calde certo e questo è una novità di quest'anno non ho ancora letto il servizio sul minestrone caldo a mezzogiorno dato agli anziani non ho ancora letto consigliano di mangiare il minestrone caldo a mezzogiorno per mettersi al sole quest'anno lo hanno ancora detto state attenti cioè generalmente ci sono i servizi su rete 4 su tg di rete 4 che spiegano che bisogna bere tanta acqua mangiare tanta frutta non mangiare di minestrone non aspettare di aver sete non aspettare di aver sete non mettersi al sole nelle ore più calde non mangiare non lasciare i bambini al sole non mangiare i bambini al sole neanche gli anziani stare attenti a non bere troppo ghiacciato che può crearvi non fate il bagno prima di aver digerito se ci sono le mamme se andate al mare non fate il bagno subito dopo mangiato cioè quelle cose che ci sono anche altre notizie che sono veramente chichissime quei consigli importanti allora come fai per esempio abbassa la temperatura corporea se il tuo bambino non fagli prende un colpo di sole insomma man mano gli metti dell'acqua si e poi ci sono anche delle altre cose mangiare la frutta mangiare la verdura bere tanto quello l'abbiamo già detto non mangiare pesante la carta costa come le notizie che nascono non hanno fatto in tempo a dare le notizie sui saldi ve ne diamo noi attenzione che i commercianti sono dei delinquenti quindi non comprate cose dell'altro anno voi dovete poter cambiare la merce non fidatevi del negoziante guardate sempre il prezzo iniziale e il prezzo finale possibilmente comprate solo dalle grandi distribuzioni quella sì che è bella gente cioè ecco i consigli che danno anche i giornalisti in questa occasione non sono usciti a darli perché sono partiti i saldi prima però potevano riportare gli stessi articoli senti una cosa ma se io vado a comprare una cosa qualsiasi e poi vedo che non mi va bene che non è lo riporti dietro non c'è più la misura per cambiare è una colpa del negoziante ah non è una colpa no 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 sembrava assolutamente sembrava non è neanche obbligato a sostituire a sostituire i soldi attenzione i soldi devono essere sostituiti solamente nel caso in cui ci sia un vizio del prodotto non evidente e conosciuto dal negoziante quindi questi sono termini di legge poi il fatto che il negoziante sia una persona corretta e gentile e vi permetta di sostituire tutto quello che volete anche se ci ripensate è un altro discorso e generalmente è così non è obbligato a farlo e soprattutto non è neanche obbligato a a sostituire i soldi ecco quello no assolutamente ecco tanto più che se non ha le casse che promettono lo storno dell'iva è esentato anche dal fisco quindi dite che chiamate la guardia della finanza finché volete quello vi fanno per nascere mi ero dimenticato nello sport di dare una notizia che secondo me per la prima volta il Giro d'Italia cambia data cambia periodo cambia tutto e infatti è previsto dal 3 al 25 di ottobre giovedì ci sarà la presentazione online cioè non come al solito quando lei andava in bicicletta la presentazione che si presentava con la maglia di Coppi ah si 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 e di Eddie Merckx e di Eddie Merckx quella dell'ora dell'ora del record dell'ora si si ad anni alterne metteva quella di Coppi si è proprio quella di Merckx a volte anche Gimondi ah quella del tour dei miei anni no Tonto Coppi gli altri sono ancora vivi no si no Gimondi è morto sei mesi fa è morto che poco va bene allora volevamo dire solo che c'è il giro sarà strano vedere un Giro d'Italia che rischia di trovare la neve che rischia di trovare situazioni perché a ottobre andare su in montagna a fare una fregge eh però dovranno eliminare le decime Coppi notizia interessante il vino sta crescendo di valore i produttori di vino le cantine più importanti il problema del 2020 dopo il lockdown è soprattutto l'esportazione del prodotto e il consumo sappiamo di cantine che hanno le vasche piene e il problema di smaltire la produzione è importante in più c'è anche la questione che questa produzione di quest'anno se tutto resterà normale si prevede di buona qualità e abbondante quindi andremo a aggiungere del prodotto a poi ricolleranno un po' i prezzi questa è una cosa dicono adesso tu dice abbondante non in tutte le regioni eh comunque cambia da zona in zona si si può dare però comunque anche forse normale non in abbondante ma vai a aggiungerti a un a una produzione che è passata quindi il problema è quello cari allora ricordavo che domani martedì quindi preparatevi già oggi organizzatevi domani martedì quindi a Paris Wing al Garden dei Devoi bisogna prenotare perché i posti sono abbastanza limitati purtroppo per via del covid c'è la distanza dei tavolini potete chiamare noi contattarci via facebook eventualmente chi ci conosce direttamente o chiamare la la hall dell'ottore Devoi Rossi e lì vi si può prenotare si può prenotare allora dalle 19.30 alle 23 è possibile ascoltare ottima musica bere un cocktail spaziale di Nicolò oppure assaggiare i piatti di Marco Morano ah certo noi vi aspettiamo numerosissimi domani sera per fare festa con noi compatibilmente con il numero di posti disponibili purtroppo il giorno di scorso sareste stato numerosissimo ma i posti erano quelli che hanno dato via della gente però così è allora va bene ragazzi siccome ormai siamo praticamente a fine luglio a chi è già in vacanza perché vedo che c'è anche i numeri eh sì certe persone non ciao anche Barbara si è unita ai nostri congiunti ma 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 ci fa piacere a domani buon lavoro allora ricordiamo che a tutti i congiunti e non congiunti che la mattina saremo nuovamente qui come tutti i giorni abbiamo fatto anche durante il corso ricordiamo ancora vi lasciamo il logo alla fine della puntata che è per i swing e domani ricordiamo che il turista non vuole pensire il ricco è ricco e che il caffè del pacciotto è il miglior caffè del salto il miglior caffè del mondo a domani ciao grazie